salve a tutti i miei canali io sono mister camarium non mi stancherò me di chiedervi di iscrivervi al mio canale a questo punto vi presento un progetto che ho stampato in questi giorni l'arca di noi per realizzare questa ho utilizzato le misure che sono scritte nella bibbia quindi non mi sono inventato niente in descrizione vi metterò anche i versetti così potete tastare costatare anche voi l'esattezza di quello che vi sto dicendo perché molte volte nelle illustrazioni di libri per ragazzi ci viene fatta vedere che stacca a forma di banana con tutti gli animali riescono di fuori in realtà non è proprio così non voglio fare un oggetto di studio di religione perché sul mio canale di regione non ne parlo sì ho parlato anche in un'altra occasione di evoluzione ma solo allo scopo scientifico giusto per dimostrare che non è proprio quello che dice la scienza riguardo all'origine della vita e mi invita anche andare a vedere questi due tre video realizzato quindi a questo punto vi lascio a voglio ricordare che descrizione metterò anche il link di questo file che potete andare a stampare rispetto a questa versione qui ho aggiunto anche degli animali e ho allargato anche la porta centrale perché per sbaglio l'ho fatta troppo piccola perché della porta centrale la bibbia non parla quando è larga allora mi sono andato per idea che gli animali che entravano tra elefanti e giraffe allora ho riproporzionato le dimensioni in base a questi animali che entravano nell'arca quindi a questo punto vi auguro una buona giornata e se non l'avete fatto in questo caso mettere un bel like arrivederci